Federica, se prendi psicofarmaci, vieni spento completamente, quindi ti togli proprio l'opportunità di ragionare. Cioè, gli psicofarmaci sono dei sedativi. Allora, già abbiamo dei sedativi a monte, come già ho detto in diversi video. Quindi, ricordiamoci una cosa, mettiamo un frame più grande. Uno, obiettivo primario del sistema, che tu non rompa i maroni. Ok? Fondamentalmente è questo. Cioè, il primo obiettivo è che tu non dia fastidio. Secondo obiettivo è che tu consumi. Cioè, che tu sia una vacca da mungere, punto. Poi, qualunque altra cosa, va bene. Se non ti fanno pensare, spendi i soldi in psicofarmaci, basta che mangi, consumi, o nella moda, o nei farmaci, o in qualunque altra cosa, va bene. Tra l'altro, non ti dimenticare che il concetto di psicofarmaco è la rendita vitalizia per eccellenza. E che lo psicofarmaco, una volta che lo prendi, lo devi prendere sempre. Quindi, impostato proprio come rendita vitalizia. Se appari a una malattia cronica, come può essere il diabete, che dovrai prendere sempre medicina, o come la DS, che secondo loro dovrai prendere sempre medicina. E quindi, l'obiettivo, la creazione delle rendite, lo vedi così. È ovvio che se ti dicono che quella è l'unica soluzione. Cioè, se hai un vuoto, se fai fatica a fare qualunque cosa, capito, andiamo a verificare un attimo il suo contesto, qual è la sua condizione, chi c'è attorno. Perché quella è la soluzione migliore. Ricordiamoci che se una persona si è creato un vuoto dentro, si è creata una depressione, si è creata quello che è, è perché quella è la soluzione migliore. Non riesce a trovare una soluzione migliore. Cioè, la soluzione migliore che ha trovato il suo inconscio è farle avere quella depressione, o farle avere quel vuoto. Ma la maggior parte delle persone depresse hanno trovato nella depressione la soluzione a un problema. Ma in genere è così. Cioè, o perché erano costretti a fare delle robe che non gli piacevano e non avevano il coraggio di uscire, perché con una logica, magari, che ne so, una famiglia che li pressa, tutta una serie di cose che da cui non possono uscire, paura del giudizio, eccetera, si deprimono. A quel punto c'è una scusa, sono depresso. Poi, se gli psicofarmaci servono per avere una scusa ancora maggiore, allora si imbottiscono i psicofarmaci. Meglio rincoglioniti a letto che nella vita con la gente che ti rompe i maroni. Ma, in questo senso sì, eh. Però, potremmo trovarne altre 150.000 di soluzioni, se si volesse davvero. Però, spesso e volentieri, una roba del genere, una roba del genere, non, cioè un cambiamento, una persona che vuole uscire una depressione, dovrebbe prima di tutto avere la capacità e la voglia di cambiare tutto, cioè di mettere in gioco tutto. Il che potrebbe essere, spancurare un bel po' di cose di quelle che c'è attorno. Ma, nella maggior parte dei casi, non hanno il coraggio, per questo si deprimono. O hanno comunque qualcosa del genere. Qualcuno ha detto che i depressi sono narcisisti falliti che, bello, finalmente sento in diretta. Ma anche il discorso del narcisismo, ragazzi. Il narcisismo è stata un'altra roba creata dagli psicologi per darvi altri psicofarmaci. Non vi dimenticate che le malattie mentali aumentano ogni anno. Ricordatevi che ogni malattia mentale creata è una rendita creata per il sistema. Il mezzo migliore per creare una rendita è prendere qualcosa esistente e dire che è una malattia. Cioè, il narcisismo. I bambini nascono narcisisti. Secondo la logica delle malattie degli psicologi, del DRM, come si chiama lui, del librone dei cosi, i narcisisti, tutti i bambini sono narcisisti. E allora che fanno? I mettiamo sotto psicofarmaci. Tutti i bambini nascono a sto punto con l'iperattività. Cioè, certo, che li vuoi? Sei da piccoli. Ed purtroppo è quello che fanno. Purtroppo è quello che fanno. Purtroppo è quello che fanno. Purtroppo è quello che fanno.